Due giovani, entrambi diciottenni, sono stati denunciati in stato di libertà dalla Polizia di Stato con l'accusa di essere i responsabili della rapina compiuta nell'aprile dello scorso anno a Reggio Calabria perpetrata ai danni di un'anziana signora di 72 anni. La donna, nel momento in cui le venne strappata la borsa, venne scaraventata a terra procurandosi così diverse ferite e lesioni. I due giovani denunciati sono un brasiliano ed un romeno. In un primo momento, grazie all'attenta visione delle immagini fornite dal sistema di videosorveglianza, era stato individuato il ragazzo brasiliano, un giovane diciottenne che nell'ambito della perquisizione domiciliare è stato anche trovato in possesso di un involucro contenente circa 9 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana. Successivamente i poliziotti sono arrivati anche al suo complice. Proprio quest'ultimo avrebbe infatti strappato la borsa all'anziana signora provocandone così la caduta.